Anche quest'anno gennaio si apre con il Mese della Pace, un mese contrassegnato da uno slogan L'umanità ha perso il filo, un significato particolare in previsione di quelli che sono i commenti, le riflessioni di un periodo decisamente controverso e difficile. Ne parliamo con Giovanna Marelli del coordinamento per il Mese della Pace, una serie di eventi che caratterizzeranno erba alla Cineteatro Excelsior e alla Sala della Comunità di Via San Maurizio, ma andiamo con ordine, innanzitutto perché l'umanità ha perso il filo? Sì, ci siamo interrogati in quest'ultimo periodo, un periodo particolarmente complesso e aggrovigliato, diciamo così, è un po' come se dopo i decenni che hanno contraddistinto una ricerca di un ordine mondiale condiviso e dopo le due guerre mondiali, in questa fase, in questi ultimi anni, in particolare in quest'ultimo anno, con i conflitti in atto, con i drammi legati alle migrazioni, con le terribili violenze a cui stiamo assistendo e che hanno anche una valenza mediatica molto più elevata rispetto ad anni precedenti, ci pare quasi che l'umanità stia un po' tornando indietro, che abbia perso la via, che abbia perso la strada di un progresso che può rispettare la dignità di tutti ed è costruito sulla pace e sul dialogo. Allora ci siamo chiesti, questa umanità ha perso veramente la via, ha perso il filo e su questo abbiamo cercato di elaborare il programma di quest'anno. Ecco, come abbiamo detto, un programma contrassegnato da diversi eventi, in particolare a partire da mercoledì 17 gennaio, si parlerà di guerra e migrazioni alla ricerca del filo nel labirinto della sofferenza. Sì, questi due temi, il tema della guerra e il tema delle migrazioni ci paiono a quelle in cui l'umanità in questo momento sta soffrendo in un modo particolare, non solo i due grandi conflitti, ma i 18-20 conflitti che nel mondo sono in atto e lo spostamento di popoli e di masse di uomini e di donne che stanno cercando luoghi in cui vivere e che stanno continuamente incontrando ostacoli, muri, negazione di vita. Allora abbiamo chiesto di nuovo a due persone che, soprattutto la prima, Marco Tarquinio, ex direttore di Alvenire ed editorialista di Alvenire, sono un po' stati anche negli ultimi anni dei fari per noi. Tarquinio e Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano, ci aiuteranno a leggere questi due fenomeni. Un dialogo in cui chiederemo loro di avere un po' di luce su quello che sta avvenendo, per provare a riflettere insieme al di là dei pregiudizi, delle precomprensioni, delle polarizzazioni che a volte producono scontro e non aiutano a comprendere. Mercoledì 24 gennaio si torna al Cineteatro Excelsior di Via Battisti a Derba con un monologo teatrale. Sì, il monologo di Giulio Cavalli che si intitola Casa loro. Sono storie di migranti che hanno incontrato la fatica, la sofferenza, l'ingiustizia, la negazione. Contiamo di avere l'autore di queste interviste, di queste storie che è nello scavo. Anche nello scavo inviato speciale di Alvenire è un affezionato nel Mese della Pace e noi gli abbiamo chiesto tra un viaggio e l'altro sui luoghi dei conflitti di poter essere con noi e contiamo sulla sua presenza. Mercoledì 31 gennaio vi sarà un dialogo a più voci ospitato nella sala della comunità di Via San Maurizio a Derba, un dialogo dal titolo più forte dell'odio. Sì, è un po' come dire, dopo aver cercato di comprendere, dopo aver sentito l'emozione, il dolore dei protagonisti di queste storie, anche tristi, vogliamo cercare una via per uscire dall'odio perché non crediamo che rimanere nel rancore, nel reciproca rivalsa, nel conflitto possa essere risolutivo per l'umanità. Abbiamo invitato tra l'altro tutte voci femminili in questa serata una scrittrice, Barbara Stefanelli, che è vice direttrice tra l'altro vicaria del Corriere della Sera, che ha scritto un libro bellissimo sulle storie delle donne iraniane e sulla loro esistenza all'odio. E Gidia Beretta, che è la mamma di Vittoria Arrigoni, che tutti conosciamo, che è stata anche intervistata da voi e che traccia proprio una possibilità di superare l'odio ricevuto e subito alla ricerca di una strada diversa. E Giulia Cercutti, che rappresenta un'associazione importante, l'associazione italiana Amici di Neve Shalom. Neve Shalom è un villaggio che da 40 anni esiste, tra l'altro proprio in Palestina, è abitato da famiglie ebree, famiglie cristiane e famiglie palestinesi, musulmane, che tentano attraverso la loro convivenza di costruire delle vie di pace. È un po' come dire aiutateci ad intravedere la possibilità di ricostruire il dialogo, la convivenza pacifica, il diritto, anche oltre il dolore, oltre l'odio. Il mese di febbraio invece è caratterizzato da tre serate Cineforum, sempre al Cineteatro Excelsior di Erba, a partire da martedì 6 febbraio. Sì, questa è una collaborazione preziosa, quest'anno abbiamo proprio collaborato anche all'interno del programma del Cineforum, che di per sé è una proposta molto interessante che presso il Cineteatro Excelsior da anni riscuote successo. Questi tre film riprendono proprio le tematiche importanti, Io capitano, la tematica delle migrazioni, tra l'altro la sera nel Cineforum e poi la mattina successiva in due gruppi a 500 studenti lo potranno rivedere e essere guidati nell'interpretazione di questo film. Poi la tematica della resistenza civile iraniana con Kafka a Teheran e l'ultimo, proprio sull'interminabile conflitto, lotta israele-palestinese, Walser con Beshir. Martedì 13 febbraio e martedì 20 febbraio gli ultimi due appuntamenti col Cineforum. Ecco, concludendo, vogliamo spendere qualche parola anche in merito alla rete di associazioni che consente appunto l'organizzazione del mese della pace. Sì, questa è l'altra scommessa che ci pare una via di pace, diciamo, cioè poter promuovere, ma non solo promuovere, ma elaborare insieme tra associazioni diverse che hanno anche delle mission differenti, che hanno anche un'origine differente, ma che sono accomunate dallo stesso desiderio di educare alla pace, di far crescere capacità di dialogo e di pace a partire dalle giovani generazioni e non solo. E quindi insieme, intorno a un tavolo, abbiamo scelto gli argomenti, individuato i testimoni e insieme proponiamo e cerchiamo di promuovere sul territorio questa rassegna, anche quest'anno. E speriamo che in molti decidano di condividere un cammino che è un cammino di ricerca, di riflessione, di approfondimento per vincere quella tentazione grandissima che è l'indifferenza. Cioè non mi riguarda, non riguarda particolarmente me, sono storie lontane e quindi io continuo con la mia vita. In realtà noi crediamo che ci riguardi, che ci importi, in qualche modo we care, come qualcuno diceva, I care e quindi vorremmo che questo fosse il messaggio principale. E allora l'appuntamento, lo ricordiamo, il primo appuntamento è mercoledì 17 gennaio alle 21 al Cineteatro Excelsior di Via Battisti ad Erba, con questo ciclo di incontri dal titolo L'umanità ha perso il filo. Ringraziamo Giovanna Marelli in rappresentanza appunto del coordinamento del Mese della Pace 2024. Grazie. Grazie.